Un titolo è, diciamo, è caos calmo, spero di evocare un film che le piace, nel senso che la confusione, il casino, diciamo le cose come stanno, mi pare abbastanza evidente, ha elencato tutti i punti, però è calmo, nel senso che io non vedo nessuna precipitazione a breve, anche se, insomma, sia sì, sono spettacoli a tratti surreale, ma, insomma, noi apprendiamo oggi che c'è freddezza su questo cosiddetto piano di Colau, che, insomma, ma chi gliel'hanno fatto fare il piano a Colau? Cioè, chi gliel'ha ordinato? Dalle mie parti si dice non gliel'aveva ordinato il medico, diciamo. Cioè, tu convocchi una task force, gli fai produrre un lavoro, poi apriamo il dibattito, non serviva Colau ad avere l'idea dei condoni, basta fare una telefonata a Berlusconi e a Tremonti, diciamo, di condoni, sono esperti, ti presenta il piano e dice non serve. E quindi? Sembra che sia troppo lungo, troppo articolato, però entriamo nel merito più avanti.